L'assessorato della famiglia e delle politiche sociali ha stanziato 4 milioni di euro per gli stipendi e contributi previdenziali dei dipendenti delle IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Sicilia. Di questi 3,2 milioni saranno destinati al pagamento delle integrazioni stipendiali e degli oneri previdenziali del personale, mentre 800 mila euro verranno utilizzati per regolarizzare le posizioni contributive dei dipendenti in istituti ormai inattivi. L'assessore regionale Nuccialbano ha sottolineato come i contributi siano stati assegnati in anticipo rispetto agli anni precedenti, dimostrando l'attenzione del governo Schifani verso i lavoratori delle IPAB. Grazie per la visione!